E al referendum rispondiamo no, e al referendum rispondiamo no, voglio dividere lavoratori, sono truffatori a cui diremo no, voglio dividere lavoratori, sono truffatori a cui diremo no, e al referendum rispondiamo no, e al referendum rispondiamo no, voglio portarci indietro di cent'anni, ma ai loro inganni rispondiamo no, e noi a Renzi rispondiamo no, e noi a Renzi rispondiamo no, perché è peggio di quello che pensa, e a Matteo Renzi rispondiamo no, perché è peggio di quello che pensa, e a Matteo Renzi rispondiamo no, e alla Boschi rispondiamo no, e alla Boschi rispondiamo no, i suoi affari sono troppo roschi, noi alla Boschi rispondiamo no, e a Berdini rispondiamo no, e a Berdini rispondiamo no, e che non siamo tutti i cretini, noi a Berdini rispondiamo no, su quella scheda voteremo no, su quella scheda voteremo no, e se vogliamo la velocrazia, l'unica via è risponderm no, e per salvare la Costituzione, la soluzione risponde no! a a a a a a a Milano, 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 Milano...